Nella nostra vita una persona, una figura simbolica che ci aiuta in questo tuffo, anche semplicemente appoggiandoci una mano sulla spalla e dandoci quel coraggio per andare lì sotto. La mia speranza è che anche la musica lo possa fare, anche magari un concerto, magari questo, possa essere la mano che è venuta ad andare in questo tuffo e fare l'idea che bisogna. Quindi questa sarà la nostra emersione. Grazie, grazie a tutti di essere qui. Sognato che ho capito col tempo, ogni volta buttato, ogni centi metri in pieno, a me ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà. La salvezza in ogni grano di un rosario, ogni lettera del mio vocabolario, scatacchiamo quei cancelli di un uomo, quelle cellule di un uomo, il suo destino. Abbiamo due soluzioni, o meno asteroide, che si riparte da insieme. Ho una somma di piccole cose, e una somma di passi, che arrivano al centro, di scelte sbagliate, che ho capito col tempo. Ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.